eccoci dopo tanto tempo ben ritrovati su questo canale per un video di tanto in tanto ne faccio qualcuno ma ne avete talmente tanti ormai su questo canale da guardare che non serve farne uno tutti i giorni lo si fa quando è necessario è come se voi a casa avete una libreria già piena di libri ogni tanto tirate fuori il libro che volete leggerlo e lo leggete uno può dire ma vabbè io ho bisogno di libri nuovi perché li ho letti tutti e libri nuovi ne escono ogni tanto non tutti i giorni di interessanti soprattutto quindi rilegiti un po i vecchi che un ripasso non fa mai male fatta questa premessa di cosa parlo oggi oggi parlo ovviamente di un tema molto caldo delle elezioni amministrative che non mi hanno toccato direttamente non hanno toccato direttamente la mia residenza ma hanno toccato parecchi comuni ed è il caso almeno mi sento di fare un commento inerente a questa situazione molti diranno e vabbè certo non avete avuto molti numeri come movimento 5 stelle e ti brucia allora sì mi dispiace più non mi brucia ma mi dispiace e tutti sanno che ormai io sono un sostenitore del movimento 5 stelle un simpatizzante del movimento 5 stelle ma non perché considero il movimento 5 stelle il dio disceso in terra non è questo dio bisogna che venga giù lui se no nessuno potrà sostituirlo nemmeno il movimento 5 stelle il movimento 5 stelle è un movimento popolare composto da esseri umani con pregi e difetti soggetto a errori e sbagli e fallimenti e questo l'ha detto anche grillo su un post che peraltro condiviso sul sulla mio profilo facebook però vorrei analizzare la cosa in maniera un po più approfondita il movimento 5 stelle vero non è il dio sceso in terra ma di fatto è l'unica forza politica l'unico movimento popolare che si oppone alla partitocrazia è l'unico movimento alternativo alla partitocrazia e non solo a parole ha dato segnali direi evidenti e chiari come il taglio ai loro stipendi come l'istituzione di un fondo micro credito per le piccole e medie imprese come iniziative di rinnovamento che stanno portando avanti nei comuni dove esercitano il loro mandato non escludo un eventuale mio cambiamento di simpatia e sostegno qualora dovesse nascere un movimento antipartitocratico magari con caratteristiche migliori di fatto però attualmente non esiste quindi se noi come spesso blatteriamo ai bar ai convegni con gli amici con i conoscenti siamo veramente stufi di questo sistema e lo vogliamo cambiare allora o ci inventiamo un movimento nuovo o di fatto l'unica opposizione alla partitocrazia che piaccia o no è il movimento 5 stelle passiamo ora dopo questa introduzione ad esaminare velocemente due cose il perché il movimento 5 stelle ha preso pochi numeri e il perché gli altri hanno preso così tanti numeri sulla carta di fatto poi sarebbe tutto da rivedere ma il popolino non riflettente fa i conti sulla carta soprattutto su quella stampata e su quello che gli viene propinato dai radiogiornali e dai telegiornali insomma dall'informazione mediatica il movimento 5 stelle si è presentato da solo senza nessuna coalizione se noi andiamo a prendere tanto il centro destra come il centro sinistra scopriamo che hanno molte liste civiche e molti magari votano alla lista civica senza sapere o senza preoccuparsi di cosa poi va a appoggiare questa lista civica e di cosa poi di fatto è e rappresenta questa lista civica camuffata da lista civica ma in realtà appoggiante e appartenente o al centro destra o al centro sinistra da qui ovviamente i famosi pastrocchi appoggi e finte liste civiche vanno a beneficiare o l'una o l'altra posizione dipende a dove esse appoggiano e quindi questo è un dato di fatto molto importante a livello numerico perché in questo modo si ottengono inevitabilmente numeri che difficilmente un solo gruppo senza coalizioni potrà ottenere e viene proposta una chiave molto meno chiara al lettore che deve votare perché io spaccio la mia lista come lista civica ma in realtà lista civica non è perché appoggia comunque di fatto o quel partito o quell'altro partito poi bisognerebbe anche discutere approfonditamente sul termine lista civica perché anche qui ce ne sarebbe da dire ma poi la faccenda si fa troppo lunga e il video diventa troppo lungo e noioso all'ascolto quindi non voglio oggi approfondire questa tematica lo farò semmai prossimamente questo è uno dei motivi per cui il Movimento 5 Stelle numericamente non è riuscito a raggiungere il numero che hanno raggiunto i partiti di centrodestra e di centrosinistra non avendo liste cosiddette civiche d'appoggio ma essendosi presentato in modo unico, chiaro e inequivocabile altro fatto molto importante specie in provincia stiamo assistendo ad un momento culturale molto particolare culturale e informativo abbastanza decadente dal mio punto di vista in special modo in provincia dove si è sempre meno invogliati e meno stimolati a usare la propria testolina ma si è sempre più propensi ad appoggiarsi all'informazione mediatica noi vediamo a differenza delle grandi città dove magari si è per certi versi un po' più stimolati a ragionare con la propria testa nei piccoli borghi, nei piccoli paesi di provincia va ancora di moda il non plus ultra per quel che dice il telegiornale per quel che dice il radiogiornale per quel che dice un'istituzione che può essere il paroco piuttosto che il ricco del paese che forza verso un pensiero politico una direzione politica alla maggior parte degli abitanti del paese persone che nei piccoli paesi si mettono in politica spesso e volentieri solo perché hanno delle proprie situazioni dei propri interessi da coltivare e questo fa sì che destabilizza un po' la situazione e induce sempre meno le persone a lavorare e a valutare con la propria testa sicuramente abbiamo un'informazione di regime ormai al 99% pilotata la libertà di informazione esiste solo in pochi casi io seguo da vicino il comparto radiofonico e vi assicuro che anche in quel frangente anche se noi andiamo a prendere una piccola una piccola grande cosa parliamo di un'arte la musica che è un'arte oggi si propina e si lancia tutta musica proveniente dai talk show tutta musica che parla le classiche canzonette d'amore che tanto abbiamo cercato di smascherare a metà anni 70 con la rivoluzione e la nascita dell'emittenza libera e nacquero anche alla fine anni 70 inizio anni 80 molti progetti musicali come USA for Africa per esempio o molti gruppi di protesta il cantautorato italiano ebbe un'esplosione forte oggi si torna a mascherare tutto questo tutto questo perché? perché si è capito che l'arte è una comunicazione molto efficiente e propositiva la musica in special modo comunica molto e allora si tende a soffocare questo fenomeno di comunicazione con musica prettamente di consumo con facili canzonette d'amore che non intaccano più il pensiero mediatico non inducono più la gente a pensare con la propria testa a riflettere ma fanno sì che il pensiero possa atrofizzarsi e continuare a scivolare vittima delle martellate ricevute dall'informazione mediatica quindi la gente che si lamenta e poi finisce per sottostare all'informazione mediatica la gente che si gongola leggendo giornali ascoltando la tv cominciando a pensare ma quelli forse non ce la fanno più quelli non hanno più i numeri quando in realtà il discorso numerico come vi ho fatto notare va valutato in tutt'altra maniera quindi occorre sicuramente fare i conti con questo tipo di ragionamento e occorre fare i conti anche con l'astensionismo l'astensionismo che va a collegarsi ancora a questo tipo di ragionamento e di deculturizzazione a cui stiamo assistendo perché colui che si astiene non si sente partecipe è completamente sfiduciato non crede più nella politica ma la politica anche qui siamo noi che la facciamo e che la determiniamo certo per chi ora troneggia va benissimo che ci siano gli sfiduciati e le persone che continuano a delegare e non si sentono partecipi di un sistema politico perché se tu continui a delegarmi e a darmi il tuo sostegno io sostanzialmente ne vado felice fiero e continuo a fare quello che voglio io tanto la tua iniziativa non conta tu mi deleghi quindi io faccio quello che voglio presa visione di tutta questa fenomenologia io credo che occorra veramente fare una riflessione attenta e accurata noi siamo spesso capaci di parlare però siamo magari i classici genitori che si lamentano degli extracomunitari si lamentano delle babysitter extracomunitari e si lamentano che abbiamo tanta gente che accogliamo tanta gente però poi se abbiamo bisogno di una babysitter trovarne una di noi è difficile se abbiamo bisogno di un bracciante trovarne uno di noi è difficile perché noi non vorremmo mai che nostro figlio lavori 12 ore al giorno e poi magari bisogna aspettarlo 4-5 ore a casa con la cena perché fa un tipo di lavoro che magari richiede un certo impegno dove magari momentaneamente non si può distaccare all'orario deciso noi non vorremmo mai che nostro figlio si sporchi le mani piuttosto lo vorremmo sempre pulito con il diplomino in tasca che faccia il lavoro meno pesante possibile noi non vorremmo mai che nostro figlio vada a pulire i bagni pubblici o che nostra figlia vada ad acudire un'anziana vorremmo nostro figlio professore e nostra figlia magari insegnante o impiegata da qualche parte e voi capite bene che con questa mentalità noi abbiamo ucciso il nostro mercato di lavoro e guardate che è una mentalità tuttora corrente io ve lo posso dire ho un figlio che ha appena terminato la terza media e a sentire molti genitori parlare ma soprattutto esigere dal futuro dei propri figli c'è veramente da mettersi le mani nei capelli e non strapparseli darsi fuoco alla testa perché sono discorsi a dir poco sconcertanti voi capite bene che fino a quando noi abbiamo questa testa e questa mentalità non potremo migliorare non potremo andare da nessuna parte cioè rimarremo sempre un popolo di vecchi bacucchi se vogliamo veramente ridare vita ben altra mentalità ed educazione dobbiamo inculcare nella testa dei nostri figli sicuramente non questa l'Italia è un popolo di vecchi prevalentemente si fanno pochi figli certo l'Italia è un paese contraddittorio perché si proclama sostenitore della famiglia quando in realtà lo è a parole ma non ha fatti oggi se si vuole creare una famiglia ci sono situazioni difficoltose a livello lavorativo di tutela dei genitori a livello lavorativo e ci sono difficoltà di sostentamento economico che mettono spesso in difficoltà la possibilità di creare una famiglia ecco quindi invito tutti voi io di carne al fuoco penso di averne messa parecchia a riflettere su questo tipo di tematiche piuttosto che sui numeri e sul gongolio di vincenti e perdenti che in questo giorno troverete sui giornali ed ascolterete vedrete via tv ed ascolterete via radio perché io credo che con i gongolii dei vincenti e perdenti dei vincitori e perdenti se preferite o dei ballottatori visto che adesso in molte circostanze si andrà al ballottaggio se ne faccia sostanzialmente ben poco credo che invece di continuare a lamentarsi sia veramente necessario è indispensabile un cambio di marcia un cambio di marcia che vuol dire un cambio di pensiero che vuol dire una crescita interiore culturale che vuol dire una presa in carico e presa visione di una situazione politica stagnante ma soprattutto vuol dire presa in carico e presa visione a livello personale di cos'è la politica qual è la sostanza la sostanza scusate primaria della politica qual è il primo partecipante il primo soggetto politico attivo il primo partecipante il primo soggetto attivo politicamente non è colui che delego no assolutamente non lo può essere perché colui che delego se fossimo in un regime democratico lo potrei cambiare in qualsiasi momento non lo siamo quindi questo è tutt'altro discorso il primo soggetto politico importante sono io e determinante anche se mi hanno abituato a pensare che non lo posso essere sono io con le mie azioni con il mio pensiero e se le mie azioni e il mio pensiero riescono a diventare oggi uno domani due domani venti domani duemila è chiaro che le cose continuano a muoversi ma siccome mi hanno abituato a pensare che il mio pensiero è uno e diecimila la pensano in modo diverso io non potrò mai cercare di instradare il mio pensiero perché non diecimila ventimila trentamila contro è chiaro che io mi affloscio divento succube e penso e automaticamente divento un semplice delegatore occorre riflettere su tutte queste cose se veramente vogliamo innestare un cambio di rotta un cambio di marcia una crescita culturale una crescita interiore un nuovo cammino per il nostro paese mai cambieremo il nostro pensiero il nostro punto di vista mai cambieranno le cose continuiamo pure a essere delegatori continuiamo pure a credere nella partitocrazia le cose non cambieranno mai poi però non andiamo a lamentarci perché è perfettamente inutile